In Nuova Feltia manca la prova del 9. Sarebbe stato infatti non un risultato utile consecutivo per la band di guerra che incappa in un pomeriggio storto anche per alcune errate valutazioni arbitrali. In mezzo un Vila Alta che gioca una partita di forza e coraggio e che trova la vena realizzativa a diversari, autore addirittura di una tripletta. Al pronte via gli ospiti si rendono pericolosi con una combinazione Stefanelli-Francesco Baldinini, ma Sarti blocca. Al primo vera a fondo i padroni di casa passano, Maestria batte la punizione che Casali respinge sui piedi di Versari che beffa così il portiere ospite. In Nuova Feltia non ci sta, Baldinini colpisce di testa, Sarti respinge, ma Stefanelli non riesce a trovare la deviazione vincente. Si cambia corsia, Gabrielli mette al centro un pallone smorzato dalla retroguardia Granata, la sfera alla fine giunge sui piedi di Paolo Gori che calcia debolmente. In Villa Alta si mostra però più cinico, Versari vince il contrasto e trova il primo erogol di giornata, 2-0 e stupone tra i presenti allo stadio comunale di Cesenatico. Maestria, sempre lui, chiama la respinta a Casali da calcio piazzato. Nella ripresa in Nuova Feltia si rende pericoloso da calcio piazzato, la sfera calciata da Eugenio Sebastiani sbatte sul pallo, sulla ribattuta arriva il gol di Raffaelli di Nuova Feltia che viene annullato per fuorigioco. Baldinini, il migliore dei suoi, chiama l'intervento Sarti mentre dall'altra parte Magnani scalda i guantoni a Casali ma sulla ribattuta Raffaelli affonda l'avversario e viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco rimediando il secondo cartellino giallo e dunque di conseguenza il cartellino rosso. Dal dischetto Versali infila Casali dicendo qualcosa anche ai supporters ospiti. Maestria, una manciata di minuti dopo, firma il poker con un tiro dalla distanza che beffa Casali. Nel finale, il Nuova Feltia vorrebbe quantomeno dimezzare le distanze ma la concursione di piloto viene sventata sulla linea di porta e che non sia proprio giornata per il giallo-blu si comprende anche da ciò. Ai titoli di coda viene espulso anche Gabrielli e anche questa è un'espulsione che farà discutere. Gamba corta che decide di smorzare gli animi e di dare una pacca sulle spalle all'avversario. Oggi diciamo che le cose sono andate bene fin dall'inizio perché abbiamo sbloccato il risultato subito. Molto probabilmente è un fattore psicologico per cui una squadra viene da noi e pensa di fare una partita abbastanza malleabile. La situazione qui è stata penalizzata e penso per il Nuova Feltia. Ultimamente noi avevamo fatto due o tre partite abbastanza buone, abbiamo perso di misura non meritando. Ogni partita ha la sua storia, oggi diciamo così, secondo me ci si è infilata bene fin dall'inizio. Dopodiché abbiamo trovato anche delle dischette geometrie per mettere un po' in difficoltà il Nuova Feltia che sicuramente è una squadra, una buona squadra, però ci sono delle partite in cui le cose non si infilano bene e va a finire così. A noi è successo parecchie volte insomma. Diciamo che è difficile fare un'analisi di una partita che si perde in questa maniera. Abbiamo anche creato diverse occasioni da gol, loro sono stati bravi, sono stati anche fortunati però purtroppo ne abbiamo subiti quattro e è difficile dire che non meritavamo di perdere quando si prendono quattro gol e non se ne fanno nemmeno uno.